Edoardo e Carlotta si amano, ma le loro famiglie hanno piani diversi per il loro futuro. Edoardo viene spinto dal padre a sposare una donna ricca anziana e anche Carlotta viene data in sposa ad un altro uomo, benestante, dal quale ha anche una figlia, Luciana. Rimasto vedovo, Edoardo parte per un viaggio intorno al mondo in compagnia di un vecchio amico, il Capitano. I due innamorati si rincontrano, vedovi, e la fiamma del loro amore si riaccende. Si sposano e sembra andare tutto per il meglio, ma tutto si complica quando Edoardo, per aiutare l'amico Capitano, decide di ospitarlo a casa. Carlotta teme che un terzo elemento possa disturbare il loro amore, quindi decide di prelevare una giovane nipote orfana, Ottilia, dal facoltoso collegio in cui questa risiede assieme a Luciana e di ospitarla nella loro tenuta, portando così a quattro le persone nella tenuta. Pian piano le affinità elettive fanno la loro comparsa, avvicinando Edoardo a Ottilia e il Capitano a Carlotta. Questi nuovi sentimenti vengono dapprima fortemente contrastati da tutti i personaggi coinvolti, ma la forza dell'amore pian piano vince. I due sposi si lasciano andare a una nota di passione, immaginando l'altro non come Carlotta o Edoardo, ma come Ottilia e il Capitano. Le due coppie di amanti si scambiano quindi un bacio. Carlotta decide però di non perdere completamente il proprio autocontrollo, cercando di cancellare dal suo cuore e dalla sua mente quel bacio illegittimo. Edoardo invece, più simile a Ottilia, continua ad amarla in maniera irrazionale, sperando in un futuro insieme. Carlotta e il Capitano, entrambi dallo spirito fermo, comprendono che sarebbe meglio per entrambi sopprimere ogni sentimento, per evitare che la situazione degeneri. Il Capitano si trasferisce dopo un'offerta di lavoro ricevuta da un amico di Edoardo, e Carlotta affronta il marito comunicandogli l'intenzione di mandare Ottilia da una sua amica, così che la coppia possa tentare un ritorno alla stabilità antecedente all'arrivo del Capitano e di Ottilia. Edoardo decide allora di lasciare il castello, rivelando alla moglie che qualora Ottilia avesse abbandonato la proprietà, lui si sarebbe sentito libero di corteggiarla. Edoardo se ne va senza salutare Ottilia, e Carlotta rimane sola nella tenuta con la giovane nipote. Carlotta scopre di essere rimasta incinta durante la notte di passione col marito vissuta all'insegna di un reciproco e mentale adulterio. La donna avvise Edoardo della notizia tramite un intermediario, ma l'uomo, distrutto dalla lontananza dell'amata, decide di partire per la guerra. L'uomo non tornerà dal fronte fino alla nascita del piccolo Otto, assurdamente somigliante al Capitano e ad Ottilia, anziché ai suoi reali genitori. Desideroso di riavvicinarsi al suo vero amore, Edoardo convince il Capitano ad andare da Carlotta per persuaderla a rompere il matrimonio, cosicché ella sarà finalmente libera di legarsi al Capitano ed Edoardo ad Ottilia. Durante l'attesa si reca nel bosco del proprio castello, dove Ottilia passeggia assieme a Otto. I due si dichiarano un reciproco amore. Edoardo si allontana per definire con Carlotta gli accordi che permettano entrambi di costruire una nuova vita, ma mentre l'uomo è via, Ottilia decide di tornare alla tenuta attraversando il lago in barca e vogando, il bambino cade disgraziatamente in acqua perdendo la vita. Ottilia, divorata dai sensi di colpa, si lascia morire non toccando cibo per settimane. Edoardo è inconsolabile per la morte del suo unico vero amore e qualche mese dopo muore anche egli. Carlotta, ormai tra le braccia del Capitano, dispone che Edoardo e Ottilia vengano seppelliti uno accanto all'altra, cosicché un giorno possano risvegliarsi assieme.